Ancora una volta le scuole della zona felegrea sono state teatro di furti e di atti vandalici. Il filone di vandalismo e furti ai danni degli istituti nella pubblica istruzione a Pozzuoli ha preso il via all'inizio di quest'anno, quando in pochi mesi, a distanza di giorni l'uno dall'altro, si registrarono diversi episodi. Le protagoniste di questi incresciosi eventi sono questa volta la scuola elementare e media Salvatore Quasimodo, sita nel rione Toiano, ed il liceo scientifico Ettore Majorana di Monteruscello. La scuola Quasimodo è stata derubata di oltre 20 computer portatili, abilmente sottratti dal laboratorio informatico, mentre a distanza di poche ore dall'accaduto, dei vandali si introducevano nel liceo scientifico Majorana, svuotando in tutto il corridoio del piano terra il contenuto dei dispositivi antincendio. A destare l'attenzione degli agenti della Polizia Municipale e di Stato intervenuti sul luogo è stata la metodica precisione dell'atto vandalico. I malfattori si sono infatti introdotti nell'istituto utilizzando una seghe elettrica per liberarsi delle protezioni in ferro, raggiungendo così una spessa lastra di vetro per poi infrangerla, l'unica sprovvista di sistema di allarme. Una casualità che insinua il dubbio che a compiere il vergognoso gesto sia stato qualcuno che conosce bene la struttura. Ad accrescere ulteriormente il sospetto delle forze dell'ordine sull'episodio è la ripetitività con cui il liceo si trova a fronteggiare situazioni di questo tipo. Basta infatti ritornare indietro a pochi mesi, precisamente all'inizio del 2013, per ritrovare eventi simili. Il dirigente scolastico ha però più volte affermato la convinzione delle stranità ai fatti da parte dei suoi studenti. La stima dei danni alla pubblica istruzione Flegrea supera i 15.000 euro, una cifra da capogiro in tempi di crisi quali quelle attuali. Il sindaco putiolano Vincenzo Figlio Elia e l'assessore alla pubblica istruzione Trincone hanno espresso tutta la loro solidarietà ai dirigenti degli istituti, sottolineando come questi eventi, oltre a ledere dal punto di vista economico, mettano a repentaglio lo stesso svolgimento dell'attività scolastica. Grazie a tutti.